Un racconto realizzato da Neuronic Channel con il supporto di ChatGPT Esplorazione del mondo quantico Il dottor Alessandro Moretti era un fisico teorico di fama mondiale. Ma da anni era ossessionato da un sogno audace, non solo studiare il mondo quantico attraverso formule e teorie, ma esplorarlo direttamente. Nel cuore del suo laboratorio a Ginevra, aveva messo a punto una macchina rivoluzionaria, il Quantum Explorer, che, secondo i suoi calcoli, avrebbe permesso a un essere umano di scendere a livello quantico e osservare direttamente le stranezze di quella realtà. Il giorno dell'esperimento, tutto il laboratorio era in subbuglio. Giornalisti, scienziati e curiosi si erano radunati per assistere all'evento. Alessandro, indossando una tuta speciale, si preparò a entrare nel Quantum Explorer. Allaccia le cinture, mondo, disse sorridendo, sto per fare un viaggio nell'infinitamente piccolo. Una volta all'interno della macchina, iniziò il processo di miniaturizzazione quantica. Mentre la stanza attorno a lui diventava sempre più sfocata, Alessandro si sentì fluttuare in uno spazio senza tempo e senza dimensioni. Poi, d'un tratto, si ritrovò in un mondo sconosciuto. Era come se fosse immerso in una danza di luci e colori. Vide particelle apparire e scomparire in un istante. Legami quantici che imprecciavano particelle lontane e onde di probabilità che si muovevano come l'oceano. Ma la cosa più straordinaria era la percezione del tempo. In alcuni momenti, sembrava non esistere. In altri, scorreva in modo non lineare. Alessandro comprese che stava vivendo la superposizione quantica in prima persona. dove ogni possibile scelta o evento esisteva contemporaneamente. Mentre esplorava, notò delle strane figure che sembravano osservarlo. Erano entità fatte di pura energia, vibranti e mutevoli, ma con una forma che ricordava vagamente quella umana. Chi siete? Chiese Alessandro. Siamo gli osservatori, rispose una delle figure. Viviamo in questo regno quantico e osserviamo l'universo e le sue infinite possibilità. Gli osservatori gli mostrarono come erano in grado di navigare tra le differenti realtà, scegliendo quale percorso seguire. Era un potere incredibile, che spiegava molte delle misteriose proprietà del mondo quantico. Alessandro realizzò che, se l'umanità potesse imparare da questi esseri, potrebbe non solo comprendere meglio l'universo, ma anche manipolare la realtà a un livello fondamentale. Dopo quello che sembrò un'eternità, ma che fu solo un attimo nel mondo reale, il Quantum Explorer riportò Alessandro alla sua dimensione originale. Mentre emergeva dalla macchina, il laboratorio scoppiò in un applauso fragoroso. Nei mesi successivi, Alessandro lavorò senza sosta per tradurre la sua esperienza in teorie e applicazioni concrete. Grazie alla sua avventura, la fisica quantistica fece un salto evolutivo, portando a innovazioni tecnologiche inimmaginabili. Ma, più di tutto, l'avventura di Alessandro dimostrò che i confini tra il possibile e l'impossibile sono solo una questione di prospettiva. Il mondo quantico, con le sue stranezze e meraviglie, era una prova vivente che l'universo è molto più vasto e misterioso di quanto l'umanità avesse mai immaginato. E mentre la scienza avanzava a passi da gigante, Alessandro spesso si ritirava nel suo studio, riflettendo sulla sua incredibile avventura e sugli osservatori. Sapeva che, in qualche modo, erano sempre lì, nel tessuto stesso dell'esistenza, a guardare e, forse, a guidare l'umanità verso un futuro luminoso e sconosciuto.